Va Pellegrini con il destro profondo verso il secondo palo, arriva El Sharawi! Che gol di Stefan El Sharawi! Roma 1, Bologna 0! Dopo 33 minuti del primo tempo sorride anche Totti perché questo è un gol da maestro! Grandissimo gol di Stefan El Sharawi tra i giocatori che avevano iniziato meglio questa partita! La dedica è scontata per Karlsdorp che si è appena infortunato gravemente e nuovamente e sarà assente a lungo! I suoi compagni non si sono dimenticati di lui e non si sono dimenticati di segnare e di cercare la vittoria! Grazie a tutti!